Per consentire la ripresa dei lavori programmati dopo il periodo estivo sono previste nuove limitazioni al traffico lungo l'autostrada del Mediterraneo. Le attività riguardano gli interventi di nuova pavimentazione stradale tra gli svincoli di Rende e Cosenza Sud e fino alle ore 18 del prossimo 26 settembre sarà in vigore la chiusura della carreggiata Sud con il traffico che sarà consentito in entrambe le direzioni sulla carreggiata Nord predisposta a doppio senso di circolazione. Inoltre per consentire sempre i lavori ad un elettrodotto in attraversamento all'autostrada a partire da giovedì 13 settembre nella fascia aerea compresa tra le 9 e le 17 sarà in vigore il restringimento di entrambi.